I televisori Samsung della serie JS9500 sono Smart TV dotate di pannello LED curvo Super Ultra HD. Questi TV sono dotati del design curvo di Samsung in cui la cornice ultra sottile dono una sobria eleganza al tuo salotto. Inoltre la curvatura dello schermo è studiata in modo da regalare allo spettatore un effetto di profondità e un punto di vista sorprendente ad ogni angolo di osservazione. Il retro del TV è come al solito dedicato alle porte di comunicazione. Ingressi ed uscite sono numerosi e consentono di interfacciare facilmente e di modo intuitivo il dispositivo con apparati esterni. I TV Super Ultra HD Samsung della serie JS9500 montano un display a LED in cui la ricchezza di dettagli è esaltata dal potente processore octa-core. Molte sono le tecnologie per il miglioramento dell'immagine integrate come Auto Depth & Answer che ottimizza il contrasto ed aumenta la profondità delle immagini, Clear Motion Rate che migliora anche le scene più veloci rendendole più chiare e definite ed infine l'esclusiva tecnologia Nano Crystal Color che insieme a Peak Illuminator produce una luce ultra luminosa che regala colori ricchi ed estremamente realistici, neri più intensi e bianchi più puri. Davvero tante sono le funzionalità offerte dalla Smart TV che vi consentirà un facile accesso ad internet mediante cui sarà possibile navigare, guardare film in streaming, sfogliare le notizie, chattare sui social network o addirittura giocare in compagnia. Con Samsung Easy Sharing potrai condividere facilmente i tuoi contenuti in maniera immediata semplicemente avvicinando il tuo dispositivo Smart al TV con una risoluzione impeccabile e una sincronizzazione perfetta. La tecnologia Smart Interaction consente di gestire il tuo TV con avanzate funzioni interattive come il riconoscimento vocale e il controllo del movimento. Sarà persino possibile accedere allo Smart Tab utilizzando la funzione di riconoscimento facciale grazie alla videocamera integrata. Samsung JS8500 è una Smart TV all'avanguardia ed ha il design elegante, un dispositivo adatto ad ogni soggiorno ed ideale per gli amanti dell'intrattenimento che non vogliono rinunciare a nulla.